il ritorno di shayla gatta e lorenzo spolverato al grande fratello italiano si avvicina ma i due concorrenti sono carichi di timori e tensioni attualmente ospiti della versione spagnola del reality il gran hermano shayla e lorenzo si sono avvicinati molto tanto da diventare inseparabili la loro storia d'amore nata sotto i riflettori spagnoli li ha uniti in modo speciale ma ora si trovano a fare i conti con la prospettiva di tornare nella casa italiana dove li attendono amici e compagni di avventura non sempre inclini a credere nella genuinità dei loro sentimenti le dichiarazioni di entrambi svelano un misto di paura e desiderio di preservare quanto costruito anche a costo di confrontarsi con giudizi severi shayla gatta ha ammesso di temere il ritorno al grande fratello italiano spiegando durante un confessionale nel gran hermano le sue preoccupazioni riguardo al giudizio dei compagni nella casa italiana la ballerina si sente vulnerabile preoccupata per le dinamiche non risolte con gli altri concorrenti anche lorenzo spolverato ha espresso i suoi dubbi riguardo al ritorno in italia temendo che la routine della casa italiana possa mettere a dura prova la complicità e la vicinanza costruite insieme in spagna il giovane concorrente ha confessato di temere che la loro relazione possa essere messa in discussione una volta rientrati in italia il ritorno di shayla e lorenzo al grande fratello italiano si preannuncia quindi carico di incognite la loro esperienza spagnola ha dato loro un assaggio di libertà e affetto reciproco che potrebbe non essere facilmente replicabile in italia la sfida più grande sarà dimostrare che il loro amore può resistere a questa transizione e alle critiche esterne il futuro di shayla gatta e lorenzo spolverato al grande fratello italiano si preannuncia incerto grazie a tutti Grazie a tutti.